Salve, ancora insieme in questa dodicesima lezione su Biblos, sulla videoscrittura, sui caratteri e così via. In questa appunto dodicesima lezione affrontiamo ancora un aspetto legato ai caratteri. Stavolta parliamo di spaziatura. Spaziatura noi l'abbiamo già vista, ma in un altro modo, per i paragrafi. Ma quella era una spaziatura verticale tra i paragrafi. Mentre la spaziatura riferita ai caratteri tratta la spaziatura, cioè lo spazio, tra un carattere e l'altro in orizzontale. Questa caratteristica qui si imposta sempre dalla finestra tipo di carattere, raggiungibile da formato carattere. Andiamoci. Andiamo avanti con tab, 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 tab. Chi può vedere lo schermo già sa dove è la casellina che riguarda la spaziatura. Tab, 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 posizione, spaziatura, posizione, normale, 1 di 3. Posizione l'abbiamo visto nella lezione precedente. Tab, posizione, spaziatura, spaziatura, casella, spin, editazione, 0 mm. Ecco, questa è la spaziatura espressa in millimetri, la spaziatura orizzontale tra un carattere e l'altro, tra una cella e l'altra anche. Per cambiare unità di misura, noi abbiamo sempre il tasto applicazioni, oppure cliccando con il tasto destro del mouse, su questo campo. Possiamo avere l'unità di misura braille, centimetri, a noi quello che interessa è l'unità di misura braille. Quindi, aumentando il valore di questo campo, ad esempio a una cella braille, tra un carattere e l'altro, anche in braille ci sarà uno spazio, cioè una cella braille di spazio. Oltre ad averlo visivamente o con la stampa inchiostro, questo spazio, noi possiamo averlo anche in braille, oppure 2 celle braille, 3 celle braille. Sono delle cose che si usano effettivamente raramente, però queste sono delle caratteristiche di Biblos, che chi ha necessità di utilizzarle le trova. Quindi Biblos consente di fare anche questo, di avere una spaziatura orizzontale tra un carattere e l'altro, senza necessità di effettuare questa operazione, mettendo proprio fisicamente uno spazio tra un carattere e l'altro. Spazio tra un carattere e l'altro non ce n'è, cioè caratteri di spazio, mentre c'è uno spazio effettivo che si usa in tipografia. Quando si sceglie la spaziatura del carattere scelto, si va nel pulsante OK e si conferma e la spaziatura viene applicata al testo. Torniamo nel documento, qui ci sono tre esempi, così come chi sta guardando il video può vedere. Questo testo non possiede alcuna spaziatura orizzontale, cioè è un testo normale, senza alcuna spaziatura tra un carattere e l'altro. Per controllare la spaziatura un tasto di controllo vero e proprio non c'è ancora, però ho in programma di inserirlo tra le combinazioni di JAWS, degli script di JAWS per l'uso di Biblos, ho intenzione di inserirlo in futuro insieme a quello della posizione, alla funzionalità per la posizione. Quindi per controllare la posizione tra un carattere e l'altro, noi possiamo avvalerci della combinazione di tasti ALT più CANCEL. ALT più CANCEL è la stessa combinazione di tasti che ci serve per controllare in quale posizione del documento si trova il cursore. Allora, andiamo all'inizio, nella lettera Q, e controlliamo quanto dista la lettera Q dal bordo del foglio. Il cursore ha 2,1 cm dal bordo sinistro e ha 18,9 cm dal destro. Ok, ora andiamo nella lettera U e vediamo quanto dista dal bordo sinistro e di conseguenza dalla lettera Q precedente. Mentre la lettera Q era 2,1, la lettera U è... Il cursore è a 2,5 cm? A 2,5 cm, quindi tra la Q più o meno 2,5 e meno 2,1 cm fa 4 mm, no? La Q più o meno misura 4 mm di spazio. Mentre nell'esempio che segue... Qui c'è una spaziatura di 2 mm? In questa riga c'è una spaziatura di 2 mm? Chi vede il video può già osservare che le lettere sono più spaziate, cioè tra una lettera e l'altra c'è più spazio. Noi andiamo a controllare sempre le distanze dai bordi. La lettera Q è sempre a 2,1 cm, mentre la lettera U è a... Il cursore è a 2,8 cm. Stavolta è a 2,8 cm. Tra Q vado a sinistra e U vado a destra. Vedete? Con lo screen reader non c'è spazio. Però la lettera U è più distante dalla lettera Q rispetto all'esempio di prima. Ma andando all'esempio successivo, lo spazio è ancora più evidente. Mili, vuoto. Qui la spaziatura è di 5 mm. Ok, qui abbiamo una spaziatura di 5 mm. Andiamo a controllare le distanze. Il cursore ha 2,1 cm dal bordo sinistro U. Il cursore ha 3,0 cm dal bordo sinistro e ha 18,0 cm dal destro. Capito? Questo serve per dare, mettere in risalto del testo. Si usa anche poco spaziare il testo così, però meglio di inserire degli spazi tra le lettere è più utile farlo con le proprietà del carattere. Quindi aumentare la spaziatura. E così lo spazio tra una lettera e l'altra è più accurato. Quindi per il braille, per la stampa in braille, noi possiamo decidere di ignorare la spaziatura tra un carattere e l'altro oppure di considerarla, anche per il braille. Questo si fa sempre dalle impostazioni braille. Andiamoci. Le impostazioni braille si trovano in strumenti. Sotto menu braille, impostazioni. Menu file. Modif. Insert. Format. Strumenti. Ok. Menu strumenti. Sotto menu braille. Ok. Tabelle codici punto punto punto. Vado una volta su. Impostazioni punto punto punto. Ok. Invio. Sto lasciando i menu. Impostazioni di stampa braille. Profilo impostazioni. Non ci interessa. La casellina che ci interessa marcare o smarcare si trova sempre nella scheda braille. Quindi cambiamo scheda. Shift. Tab. Generale. Tab. Braille. Tab. Ok. È la seconda scheda. E andiamo nella casellina. Calcola cella pulsante. Stampa stili. No. Parole maiuscoli. Paragrafi maiuscoli. Tab. Tipo data e ora. No. Tipo di sillabazione. Attivato ignora il formato giustificato. Paran tab. Non attivato ignora la spaziatura del carattere casella di controllo. Sì. Quindi attivando. Spazio attivato. Attivando questa casella la spaziatura viene ignorata. Anche se noi mettiamo una spaziatura a una serie di caratteri questa spaziatura in braille viene ignorata. Altrimenti. Spazio non attivato. Se la lasciamo disattivata la spaziatura eventualmente viene considerata anche in braille. Ok. Escape 2. Questo è tutto quello che c'è da sapere in merito alla spaziatura dei caratteri. Alla prossima lezione Biblos lo trovate sempre nel mio sito all'indirizzo www.digrande.it Questa lezione le trovate su Youtube raggiungibile anche dal mio sito. Il corso di formazione di Biblos è ugualmente nel mio sito. Saluti. Grazie. Grazie.